Attenzione, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, rispettiamo il distanziamento sociale che ricordiamo il punto della mascherina. Grazie per la collaborazione. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla, premio in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. No! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.